Oggi Xaba ci consiglia un rimedio naturale per combattere la stanchezza e l'affaticamento. Buongiorno, buon sabato. Io sono, come al solito, in vestaglia al computer, però volevo dirvi che il libro, ho stampato la miniatura, procede. Sono abbastanza fiduciosa. Non proprio a buon punto, però sto lavorando duro. Ieri dall'ufficio mi hanno avvisato, che ho detto nella storia, che Marie Claire Maison uscirà il 16 settembre. In realtà ci toccherà aspettare fino al 20 e siccome siamo allegati a Marie Claire, mi raccomando, quando andate in edicola, specificatelo al vostro edicolante. O meglio ancora, prenotatelo perché finisce subito. Buon weekend! Scusate se non riesco a rispondere a tutti i direct che mi state mandando, ma sto scrivendo perché devo finire il libro. Ad ogni modo, velocemente, sulla questione del come si fa se ci si sente stanchi, pesanti, dopo le vacanze, perché si è mangiato troppo. È ovvio, anch'io in Francia ho mangiato un sacco di formaggi, ho bevuto vino e le vacanze servono anche a quello. Io vi dico come faccio io. Io bevo l'infuso di tarassaco, che si trova nei negozi biologici e lì si fa come un tè. E prendo anche a volte delle capsule di cardomariano perché aiutano a purificare il fegato. E poi, tra i miei libri, quello che vi consiglio ovviamente è Good Food. Fate un paio di settimane di questo e ripartirete con tutta la grinta che serve. Buon weekend! Ciao! 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 Ciao!